Siamo nella struttura della Calypso Life Club di Bibiano, è con noi il dottor Umberto Guiducci che oggi si è occupato e si sta occupando dei ragazzi del voletricolore. Come stanno andando le visite? I primi che abbiamo visto sono ragazzi in buone condizioni, non hanno patologie cardiorespiratorie importanti, qualcuno è un po' più allenato, qualcuno un po' meno. Complessivamente sono atleti seri perché sono alti e ben strutturati. Il centro di poliambulatorio offre anche dei servizi per chi non fa sport a questi livelli, qual è l'offerta? L'offerta del Calypso è prevalentemente natatoria, nuoto moltissimo. Poi c'è una squadra di triathlon abbastanza importante, poi c'è la palestra, poi c'è l'arrampicata libera, poi ci sono attività di vario livello, danza, arti marziali. Poi c'è il settore di riabilitazione, con una piscina specifica e con dei fisioterapisti, secondo me, ben preparati. Poi c'è un poliambulatorio dove ci sono cardiologi, come il sottoscritto, ortopedici, pediatri, c'è una varietà di specialità adesso. A livello di controllo e prevenzione delle patologie, quanto è importante tenersi controllati pur praticando sport? Tenersi controllati è importante perché intanto si possono scoprire delle patologie, specialmente cardiache, silenti. Quindi delle patologie che passano in maniera subdola e che l'atleta non scopre o la persona non scopre. E invece, dal punto di vista della prevenzione, l'attività fisica riduce tutti i fattori di rischio. Meno che la familiarità, tutti i fattori di rischio, dal diabete, l'ipertensione, all'eccesso di peso, sono tutti ridotti dall'attività fisica. Quindi il consiglio per chi ci sta ascoltando è comunque quello di mantenersi in forma e continuare a fare i controlli. Mantenersi in forma con un'attività prevalentemente aerobica, tenere controllati i fattori di rischio come la glicemia e il colesterolo e fare un'attività ovviamente adeguata alla propria struttura fisica e alla propria età previa visita cardiologica o medico-sportiva. Siamo con Andrea Ippolito, banda del CONAT Volle Tricolore. Ippo, come è andata la visita medica? Bene, dai. Passato qualche minuto ho avuto modo di riprendermi, è sempre faticoso. Però è uno step che sicuramente dobbiamo fare per prassi, per avere l'idoneità, quindi contenti di farlo. Però per lì sicuramente la corsa in salita è faticosa. Avete appena terminato la prima settimana di preparazione e avete iniziato la seconda. La prima settimana più o meno com'è andata? La prima settimana abbiamo tolto un pochettino di polvere al baggero e palleggio, insomma abbiamo giusto ripreso un po' i fondamentali e penso sia andata molto bene. Il coach ci ha detto quelle che devono essere le nostre direttive per tutto l'anno e l'abbiamo seguita giorno dopo giorno, quindi direi abbastanza bene. Domani prendiamo a saltare, quindi vediamo un attimino poi di organizzarci in campo e poi fare i vari step del gioco. Quindi è positivo la prima settimana e dai continuiamo così. mi piace il gruppo, mi piace il focus che abbiamo, tutti molto determinati e quindi ecco spero di continuare così e positivi insomma. Con l'inizio del lavoro con la palla preparerete anche la prima amichevole che è in programma per l'8 di settembre. Proverete già qualche formazione? Sì, penso di sì. Poi le amichevole sono sempre utili per campionato, sono sempre utili appunto per vedere un po' le dinamiche, le varie alchimie di squadra. Ho detto domani iniziamo a saltare, quindi inizieremo a vedere qualche situazione di gioco. Intanto a livello teorico, come ho detto prima, il coach Mastrangelo ci ha detto quelle che devono essere le linee guida da seguire e quindi ecco insomma siamo anche noi curiosi di vederle poi nell'atto pratico insomma in campo. Domani sicuramente si inizierà a fare un pochettino più sul serio e poi sì, le amichevole ci diranno a che punto stiamo e diranno poi appunto cosa dobbiamo migliorare, cosa dobbiamo migliorare meno, insomma. Quindi più che altro curiosi di vedere a che punto siamo.